Siamo con Marco Moressa che insieme a Flora Bonafini è uno dei due direttori generali di Fimauto perché quest'anno Fimauto è partner molto importante dell'Elas Verona Women avete deciso di intraprendere questa avventura in una serie A sempre più competitiva così come magari è competitivo il mondo dell'automotivo Sì, è proprio vero quello che lei ha detto quest'anno finalmente, mi viene da dire, siamo riusciti a stringere un accordo con l'Elas Women eravamo fiduciosi di poterlo fare e finalmente ci siamo riusciti diciamo che come Fimauto siamo un'azienda attenta e vicina al territorio e vicina al sociale, alla cultura, allo sport e l'Elas Women ci mancava e finalmente siamo riusciti a entrare in questo bellissimo progetto che c'è davanti Diciamo che anche il momento particolare che sta vivendo il calcio femminile italiano è un bel aiuto, garantisce praticamente una grande visibilità Sì, questo ci riempie ulteriormente d'orgoglio Sì, dopo il mondiale di quest'estate c'è stata, come tutti ben sappiamo un'impennata pazzesca di attenzione a tutto il movimento Leggevo qualche mese fa giusto i dati che riassumevano il mondiale e sono stato sballordito nel leggere che un miliardo di persone sono state coinvolte nel mondiale Quindi noi siamo entrati in questo movimento non per questo ma sicuramente per dare una mano a questo sport che magari fino ad oggi inutile nascondere non è come il calcio maschile, c'è ancora tanto da fare però sicuramente è in netta ascesa Sicuramente non sarà per merito di Fimauto se succederà qualcosa avremo bisogno di tutti, di sponsor dalla federazione e quant'altro tante cose sono nel piatto e anche le ragazze di questo lo sappiamo tutti ne hanno bisogno ma siamo convinti che riusciremo ad arrivare a grandi traguardi Il campionato è iniziato bene con 4 punti in 2 partite qui ci sono 4 ragazze molto brave e alle tue spalle però troviamo un prodotto veramente di eccellenza glielo facciamo fare un giretto magari di premio a queste 4 ragazze che sono venute sulla nuova Serie 1 Sicuro, noi le ragazze grandi atleti infatti prima le ho salutate però noi non siamo timidi ecco accettiamo ben volentieri la sfida perché le nostre macchine non saranno degli atleti però dietro nascondono tanta tecnologia, tanta ricerca abbiamo come brand di grandi motori e oggi abbiamo anche la fortuna di avere una gamma nuova che quindi è una grande offensiva nuova di prodotto il 19 e il 20 di ottobre presenteremo la nuova Serie 1 e ne approfitto anche per invitare tutte le persone che ci stanno ascoltando e a tutte le persone chiedo anche un bel passaparola Dove però? Nel territorio di Verona abbiamo 3 concessionarie in via Torricelli 44, via Torricelli 16 e a Busolengo in via del lavoro e dopo se vogliamo allargare la cosa ci spostiamo anche nel Vicentino dove abbiamo la copertura del territorio con altre 4 sedi Vicenza, Bassano, Sandrigo e Zanè Grazie